Weee che cactus fai! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Dai! Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e come vedete mi hanno appena ammazzato dopo aver preso il Fortbyte numero 81! Si trova esattamente in questa montagna ragazzi dove c'è palmetto paradisiaco! Ve la pingo in modo che la capiate ragazzi è facilissimo! State solo attenti alle persone! Mi raccomando iscrivetevi al channel! Un bel like! Noi ci vediamo alle 17 in live! Ciao! Grazie a tutti!